L'avvocato Elisabetta Giordano interviene in merito alla polemica che si è alimentata nel Vallo di Diano a seguito anche della difficoltà del Tribunale di Vallo della Lucania. L'avvocato in un'intervista evidenzia come la lotta non si sia mai arrestata e ricorda anche come l'economia del Vallo di Diano ha risentito fortemente della chiusura del presidio di giustizia. Il Tribunale di Sala Consilina è una questione per il territorio molto molto attuale, forse adesso anche più attuale di prima. Credo anche che in questo momento l'attenzione sul Tribunale sia anche più forte e più sentita anche dei cittadini perché da alcune voci che si sentono, da alcune proposte che si sentono, insomma stavolta forse qualcuno veramente non è d'accordo ed è favorevole al ripristo nel Tribunale di Sala Consilina. Io penso che chiunque lo rivuole a casa perché era un servizio di Sala Consilina, era il nostro giudice naturale e quindi è stata una soppressione ingiusta. Così come è un nostro legittimo diritto anche per il diritto alla salute che è un diritto costituzionalmente protetto, noi dobbiamo pretendere che chi di dovere si dia da fare affinché le udienze del Tribunale di Sala Consilina vengono celebrate nell'edificio del Tribunale di Sala Consilina che oltre ad essere un ottimo edificio adibito e idoneo alla struttura del Tribunale può permettere di celebrare le udienze in sicurezza osservando i distanziamenti previsti dalla legge per evitare contagi e assembramenti. La riapertura del Tribunale è un'occasione importante per risollevare il territorio anche a fronte delle strategie per lo sviluppo delle aree interi. Il Tribunale di Sala Consilina e il suo ripristino significano proprio lo sviluppo del territorio, del valo di Diano e quindi un volano anche per l'economia.